buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv ebbene oggi è giovedì 4 luglio 2024 e si festeggia santa elisabetta del portogallo lo vediamo subito qui nella grafica era la regina appunto del portogallo visse nel tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo era figlia di re pietro terzo di aragona e di costanza che era la figlia di re manfredi re di sicilia sposò di onigi re del portogallo e reagì con una condotta irreprensibile agli intrighi di corte addirittura fu accusata anche di così orchestrare un colpo di stato insieme al figlio oppure contro il figlio insomma la situazione molto controversa è in materia di indagine per quanto riguarda gli storici però morto il marito ebbe così condusse una vita veramente ascetica una vita religiosa una vita irreprensibile anzi a un certo punto meditò di ritirarsi anche in convento sollevò i poveri e gli infermi e soprattutto prima della morte riuscì anche a convertire il marito che si era abbandonato a costumi depravati santa elisabetta del portogallo una figura edificante ancora molto molto attuale al giorno d'oggi vediamo ora le previsioni del tempo ebbene il tempo è ancora instabile oggi su tutta la regione marche e tra la notte e la mattinata si sono verificati densi e accumuli di nubi soprattutto nei settori settentrionali della regione poi ci sarà un graduale miglioramento del tempo i venti i venti sulle coste spireranno da nord ovest mentre nell'entroterra da est il mare è leggermente mosso il le temperature 19 la minima 26 leggermente calata dunque la massima il sole è sorto alle 5 e 30 questa mattina e tramonterà alle 20 e 53 ed ora apriamo i giornali ci sono molte notizie purtroppo di incidenti stradali e non mancano anche notizie di cronaca per quanto riguarda invece l'ordine pubblico insomma oggi i giornali sono molto molto densi appunto di informazioni vediamo subito l'apertura sulle corriere adriatico che si riferisce ad un aggiornamento sul delitto di via fanella i soldi per l'affitto non c'erano uccisi per risolvere il problema e questa l'analisi delle motivazioni che avrebbero spinto luca ricci ad uccidere entrambi i genitori luisa marconi e giuseppe ricci detto giorgio li vediamo qui e ne questa fotografia i coniugi vittime dell'omicidio e qui l'omicida il figlio luca ricci insomma c'è stata una ricostruzione piuttosto meticolosa da parte di lorenzo furlani per quanto riguarda le motivazioni di questo delitto il fulcro e il la somma di denaro che sarebbe stata necessaria per pagare il padrone di casa il subentrante padrone di casa in quanto aveva acquistato l'abitazione dei coniugi ricci all'asta era diventato appunto proprietario ma aveva concesso alla coppia di restare in affitto nel loro ex appartamento però avrebbe così avuto due anni di anticipazione per quanto riguarda l'affitto e la somma montava a poco meno di 13 mila euro somma che però non c'era nelle disponibilità dei coniugi il figlio sembra che avesse garantito ai genitori che tutto si sarebbe risolto per il meglio così invece non era e quindi forse per una azione di sentimenti contrastanti lì è difficile capire quello che veramente ha agito la mano omicida del figlio ebbene è successo quello che è accaduto la ghiacciante scenario emerge dalle indagini bancarie nei contocorrenti non c'era la somma la fuga dalle responsabilità e le bugie di luca ricci insomma una situazione veramente difficile da interpretare ma soprattutto di capire per da capire da intendere per quanto accaduto nel nella casa di via fanella e poi c'è un'altra notizia un'altra notizia di cronaca preoccupante una violenta zuffa per una donna fermato per tentato omicidio è quello che è avvenuto l'altra sera a notte fonda dobbiamo dire sulle lungomare di torrette di fano in manette un 42enne che ha mandato in rianimazione il rivale di 54 anni il tutto accaduto sembra per un apprezzamento non gradito da parte del del 54enne ad una donna che era in compagnia del 42enne entrambi sono fanesi il 42enne era però di origine lucana comunque era residente a fano da diverso tempo una zuffa veramente che improvvisamente ha assunto dei toni molto molto violenti molto molto decisi ebbene i due se la sono date di santa ragione ma avere la peggio è stato il 54enne che ha dovuto essere ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di torrette di ancona ecco perché l'aggressore è stato accusato di di tentato omicidio e sembra che durante la collutazione sia spuntato anche un coltello che però dopo non è stato ritrovato vediamo l'articolo che appare sul resto del carlino in apertura un complimento ed esplode la lite spunta un coltello un ferito grave tensione altra notte a torrette dove sono venute le mani un 54enne e un 42enne fanesi il primo è finito in rianimazione per la violenza dei colpi il secondo è stato arrestato per tentato omicidio e nel carlino abbiamo una testimonianza anche dei dipendenti del bar for brothers che erano intervenuti per separare i due litiganti alla fine invece la lite è proseguita fino a quasi le estreme conseguenze dicevo quasi perché per fortuna non si è giunti all'omicidio noi eravamo dentro al lavoro racconta moris tomassini titolare del bar quando questi ragazzi hanno iniziato una mezza collutazione che in qualche modo pensevamo di avere sedato però insomma la cosa poi è proseguita fuori del locale appunto siamo sul lungomare in via stelle di mare recentemente ristrutturata dall'amministrazione comunale nell'ambito del waterfront di torrette ebbene una situazione che è degenerata forse nemmeno nelle intenzioni dei due antagonisti la cosa doveva finire così e infatti sono molto serie le condizioni del 54enne fanese raccolto a terra dai sanitari del 118 tanto che è stato subito deciso il trasporto all'ospedale di torrette di Ancona vediamo un'altra notizia di cronaca ce n'è veramente tanta oggi sui giornali mostra i genitali e palpeggia la collega di lavoro si era spogliato davanti a lei e l'aveva palpeggiata scattando facendo così scattando e scattare il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico si tratta di un operaio di 37 anni fanese accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza del posto di 22 anni per un episodio avvenuto recentemente lo scorso 3 giugno ieri il giudice per le indagini preliminari del tribunale di pesaro dopo aver valutato i gravi indizi di colpevolezza acquisiti dal personale del commissariato di Fano ha emesso una specifica ordinanza che dispone l'applicazione del divieto di avvicinamento di questa persona alla sua vittima vediamo anche l'articolo che appare sul resto del carlino tocca la collega e si cala i pantaloni scatta il divieto di avvicinamento il fatto è avvenuto poco 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 fa insomma un mese fa all'interno del locale nella quale lavoravano entrambi per la procura l'uomo non sarebbe in grado di controllare le sue pulsioni sessuali di qui l'ordinanza e il braccialetto elettronico allora continuiamo continuiamo a rilevare le notizie sul Corriere Adriatico e vediamo un incontro che si è svolto l'altro pomeriggio nella sala della concordia dell'amministrazione comunale a Fano dove il sindaco Luca Serfilippi ha convocato il tavolo economico un tavolo formato da tutte le associazioni di categoria che operano nel Fanese sono la Confcommercio, la Confersercenti, la Confartigianato, la CNA, Coldiretti, Alberghi Consoziati, la Faita e l'Aliclai il sindaco ha espresso l'intenzione di impostare una vera e propria strategia in ambito economico che sappia rilanciare la città di Fano e per questo si è detto intenzionato a confrontarsi in maniera molto spedita e in maniera ricorrente con tutti gli operatori per ogni decisione di carattere economico che venga assunta dalla Giunta lavoreremo, ha dichiarato il primo cittadino, per promuovere ed organizzare un maggior numero di attività in modo particolare a Fano Sud Fano Sud è la località turistica che contribuisce maggiormente alla tassa di soggiorno e quindi anche qui bisognerebbe organizzare più eventi, più iniziative per far sì che questo ambito turistico che è veramente proficuo possa ancora prosperare di più e prosperare meglio un'unica regia e più eventi a Fano Sud vediamo come così intitola il Corriere Adriatico questo articolo poi ci sono diversi aspetti da puntualizzare per esempio le esigenze della zona industriale di Bellocchi e soprattutto seguire i cantieri aperti che possono interferire un po' con la stagione turistica quali quelli di Piazza Andrea Costa e quelli del ex anfiteatro Rastat un appuntamento di spettacolo Cere Calcati alla Rocca oggi con il segreto di un figlio un Alexio Magistralis tra canto e fotografie alle 21.15 si parla di questo argomento il progetto rientra nella serie di incontri di comizi d'amore ed ora passiamo a Fossombrone Fossombrone è una località molto bella dal punto di vista ambientale ci sono molte manifestazioni ma ricordiamo che una delle risorse è quella dell'area archeologica dove insiste l'antica Forum Semproni Forum Semproni 50 anni fa i primi scavi sei mesi di eventi per un ricco patrimonio ebbene è un anniversario che viene celebrato che viene poi valorizzato anche con tante tante iniziative e vediamo qui la Confcommercio insieme al docente di archeologia dell'Università di Urbino Oscar May per la città di Fossombrone e la sua storia questo è un anno di importanti ricorrenze cinquantesimo anniversario della prima campagna di scavo presso l'antica Forum Semproni e nell'area di Martino del Piano dove appunto ci sono le rovine di questa antica città e poi c'è il centocinquantesimo anniversario del rinvenimento delle prime statuette di bronzo del VI e V secolo a.C. che sono state ritrovate lungo le sponde del torrente Tarugo a Isola di Fano dove c'era un sito molto molto importante uno dei principali santuari pensate etrusco-italici in territorio marchigiano e tutte queste cose forse non sono state valorizzate molto molto proficuamente gli scavi di Forum Semproni costituiscono veramente una realtà turistica da valorizzare devono essere resi aperti devono essere resi fruibili occorrono delle persone che possono illustrare le risultanze che sono venute alla luce devo proseguire gli scavi c'è l'anfiteatro da rimettere in luce insomma ci sono diverse cose così come appunto queste realtà ormai museali perché il tarugo ovviamente non è che ha qualcosa da vedere però insomma quello che è stato ritrovato è molto molto importante c'è un'altra notizia che non abbiamo evidenziato prima ma che ci riporta nel Fanese ebbene ieri si è verificato un tamponamento in autostrada sulla superstrada Fano-Grosseto e c'è un ferito grave un incidente che si è verificato all'ingresso della 14 subito dopo il casello di Fano con disagi alla circolazione nella corsia di accelerazione della carreggiata Nord poco prima delle 14 un autocarro ha tamponato una grossa autocisterna che lo precedeva impegnata nel trasporto di bitume liquido per manti stradali il conducente dell'autocarro è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e vediamo anche ora gli altri incidenti stradali ne sono diversi che sono capitati nella giornata di ieri a Marotta un ubriaco in auto si schianta nella rotatoria poi scappa a piedi ma è stato raggiunto dai carabinieri si mette in auto al volante ubriaco abbatte la segnaletica della nuova rotatoria di Marotta quella grande che è stata realizzata sulla Statale 16 all'incrocio con la Cezanense e poi fugge e poi viene fermato ma si nega l'alcol test e poi ha cercato di fuggire a piedi sulla Adriatica è successo martedì sera tra le 23 e le 23.30 è un marocchino di 25 anni che è finito alla guida di un'auto mini sopra la rotatoria che interseca la Pergolese con la Litoranea così come abbiamo detto comunque il veicolo è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato fermato vediamo ora gli altri incidenti stradali che anche qui vediamo sul resto del Carlino quello che abbiamo appena detto tira dritto alla rotatoria e funge la gente gli corre dietro e lo blocca è questo marocchino che appunto è stato fermato poi vediamo altri incidenti stradali li abbiamo così riscontrati sulla pagina di Pesaro vediamo eccolo qua sbanda in motorino e va contro un'auto un 52enne soccorso in elia ambulanza è avvenuto ieri mattina in via Montefeltro a Pesaro la strada che precede di poco il centro abitato di Borgo Santa Maria dove ci sono alcune curve in prossimità di una curva stavano viaggiando due mezzi provenienti da direzioni opposte quando un 52enne del posto in sella ad un motorino un chimico si è scontrato con un'automobile al cui interno viaggiava una famiglia proveniente dalla Repubblica Ceca il papà di 52 anni la moglie di 40 e il figlio letto di 4 ebbene poco prima di entrare nella zona più abitata del Borgo quella del Borgo di Santa Maria avviene lo scontro il motorino del 52enne avrebbe preso a sbandare finendo contro l'automobile dove viaggiava la famiglia ovviamente la peggio è stata per il 52enne l'urto è stato violento l'autista dell'auto poi spiegato ai presenti di aver provato a frenare per evitare l'impatto senza però riuscirci allora vediamo invece la pagina di Senigallia sul Corriere Adriatico Moreno Forever ode a Cedroni e Uliassi tra le cento tappe della vita ebbene a Senigallia si continua a parlare molto molto ricorrentemente di enogastronomia Moreno Forever è il titolo di un video diventato poi virale per quanto riguarda i click diciamo così le visualizzazioni che sono state effettuate è stato realizzato dal critico gastronomico Paolo Marchi in collaborazione con Massimo Tomagnini si tratta di un ode al chef Moreno Cedroni che viene raccontata e si racconta per quanto ha fatto in 40 anni e veramente insomma c'è da scoprire tante tante cose tanti riferimenti non solo gastronomici ma anche riferimenti di vita e rafferimenti per quanto riguarda l'ambiente che circonda il protagonista vediamo ora le pagine di Pesaro dove per quanto riguarda l'apertura c'è una richiesta che sorge dal quartiere di Baia Flaminia e di Soria facciamo un parking nel campo di Colcetto altra soluzione non c'è e la questione del parcheggio è veramente fondamentale veramente prioritaria per questi due quartieri i quali chiedono di avere un'area dedicata alla sosta sia di scooter che di moto e di camper fuori dal suo perimetro insomma in una zona adiacente che non insomma crei problemi all'interno dell'abitato ma che sia prossima a questo perché poi non bisogna percorrere tante distanze dal parcheggio magari alle proprie destinazioni alle proprie abitazioni il food truck della discordia confusione e concorrenza ristoranti e chioschetti contro l'iniziativa del comune che bisogno c'è ebbene una concorrenza queste iniziative estemporanei che vengono fatte dove magari si vendono cibi e si fa concorrenza ai ristoranti della zona sono iniziative che non vengono ben digerite e allora cade dallo scooter risale in sella e riparte ma poco dopo c'entra un utilitaria e grave trasportato in eleambulanza a torrette nel frontale coinvolto una famiglia e una bambina di quello che abbiamo parlato per quanto riguarda l'incidente di Borgo Santa Maria ed ora facciamo un aggiornamento invece del processo che si sta celebrando nei confronti di Michael Alessandrini Michael Alessandrini che è imputato appunto di aver ucciso di aver ucciso Panzieri e il suo amico e il suo amico del quale ha dichiarato di essere innamorato ebbene Alessandrini avrebbe fatto delle dichiarazioni spontanee di fronte al giudice ebbene dichiarazioni un po' così un po' che evidenziano l'originalità chiamiamola tra virgolette così della personalità di questa di questo indagato ebbene ha letto dei passi della Bibbia quando dice c'è un tempo per vivere un tempo per morire un tempo anche per uccidere quindi pensate quale interpretazione dà a questi passi la mamma della vittima però non si fa impressionare non mi fa impressione per lui voglio solo l'ergastolo ha detto papale papale questa è la richiesta che la madre della vittima fa appunto al giudice a fondo pagina abbiamo invece le richieste dei legali Taormina e Asole difendono l'imputato sono due luminari del foro l'obiettivo della difesa è ottenere il rito abbreviato evitando la pena massima e soprattutto contando sulla infermità mentale Miralfiore stiamo verificando dopo l'ultimo arresto per quanto riguarda lo spaccio della droga dove collocare le nuove spy cam c'è una iniziativa che riguarda l'aumento delle telecamere per vigilare su quanto avviene in questa zona verde che è una zona molto molto bella all'immediata periferia di Pesaro però insomma è un luogo difficile per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico è qui che viene allo spaccio della droga siamo in conclusione quindi dobbiamo accelerare vediamo ancora sul resto del Carlino un max incendio che è divampato nella notte è successo alle 21.30 in un campo di Monte Labate fiamme altissime il rogo visibile anche dal centro di Pesaro guardate che foto come brilla questo incendio con un'alta un'alta colonna di fumo durante la notte ebbene è successo tra via la Coppa e via Pantanelli su un terreno privato nel comune di Monte Labate al confine con Valle Foglia e poi continuiamo a vedere le notizie che vengono pubblicate sulla pagina di Fano abbiamo una protesta a Cartoceto per quanto riguarda l'insediamento di una ditta che produce delle sostanze insalubri si tratta di verniciatura e falegnameria verniciatura a Lexica il quartiere insorge nasce un comitato a Cartoceto a Lucrezia in modo particolare quell'industria insalubre e troppo impattante e quindi non la vogliamo e questa era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che salutarvi chiudere le pagine dei giornali invitarvi a voi a leggerle acquistare il giornale in edicola e quindi noi ci risentiamo domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per la visione